È tutto pronto per l'esordio in Serie A di la Rugby L'Aquila. La squadra ha presentato mercoledì scorso la rosa dei giocatori che scenderanno in campo nel prossimo campionato. Un mix di atleti storici e di new entry. Si inizia il 13 ottobre con una partita in casa contro il Civitavecchia. Formalmente andiamo a presentare quelli che sono i ragazzi. Buona parte sono già conosciuti a tutti e a tutto l'ambiente perché sono alla terza stagione con noi. A questi ragazzi e a questo gruppo si sono aggiunti anche una decina di elementi che vanno un po' a consolidare e a ulteriormente alzare il livello di competitività della squadra. Per cui diciamo che il gruppo è bello nutrito, bello folto, bello motivato. Insomma quest'anno penso che ci potremo divertire. Ecco, infatti quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono molto positive perché in questo mese che abbiamo premuto il piede sull'acceleratore, lato allenamenti, lato preparazione fisica, c'è stata una intensità veramente importante. Tutti gli allenamenti sono stati molto dinamici, i ragazzi escono stremati, quindi il lavoro dello staff tecnico è veramente valido, di qualità, ma questo lo sapevamo, abbiamo uno staff tecnico di tutto riguardo e puntiamo molto sulla crescita, sulla loro capacità di far emergere tutto il potenziale di questi ragazzi.